Oggi proviamo a parlare delle sfide del diritto del lavoro nell'epoca più intensa della trasformazione digitale. Proveremo a capire se queste nuove modalità di esecuzione della prestazione siano per davvero innovative o se invece in un certo senso siano distillate delle pratiche meno convenienti, quantomeno nei confronti dei lavoratori che già in passato si sono formate e sono state consolidate. In fin dei conti parleremo dei diritti dei lavoratori cosiddetti contingent, i lavoratori a chiamata, quelli delle piattaforme, non perché questo tema sia evidentemente marginale ma perché rappresenta la punta dell'iceberg di uno sfaldamento molto più ampio, una vera e propria frammentazione dell'impresa per come l'abbiamo conosciuta. Il combinato di tecnologie ubiquitarie e necessità di servizi rapidi, istantanei combinati probabilmente con delle esigenze magari generazionali di discontinuità dell'impiego rappresentano forse una minaccia. Non c'è da essere preoccupati oltremodo, si può in un certo senso analizzare il presente con le lenti del diritto del lavoro, rinunciando anche a determinismi di ogni sorta e comprendere se sia il caso di costruire delle tutele più robuste o se non sia invece il caso di adattare quelle esistenti. È evidentemente un tema in divenire ma essere alla finestra ed essere pronti è sicuramente urgente ed è questo che appassionati di diritto o anche solo di lavoro possono fare.